andiamo a vedere adesso come poter utilizzare l'emettitore bitmap all'interno di diverso solitamente questo emettitore consente di poter associare a un flusso a un'emissione una tipologia di mappa che in molti casi è una mappa in bianco e nero ovvero una mappa che ha delle forti definizioni tra un'area in cui viene emessa per esempio l'area bianca è quella che viene dove verrà emesso il nostro flusso quindi le nostre particelle mentre l'area nera è dove esse non saranno emesse dove esse non esisteranno si possono utilizzare anche dei canali alfa o dei canali che hanno anche una mappatura di gradiente quindi avranno una sfumatura per esempio tra di grigio, un leggero grigio, magari un grigio medio però nel mio caso specifico vorrò andare a realizzare un effetto quasi di cioccolato che poi vedremo con un esempio che ho realizzato in questi giorni dove praticamente avrò l'emissione che sarà data soltanto dalle parti bianche e non dalle parti nere quindi per prima cosa andiamo a crearci un emettitore quindi un emettitore bitmap di conseguenza abbiamo il nostro app, il nostro domain e il nostro emitter il nostro emitter lo alziamo ok lo mettiamo qui e creiamo anche un piano di collisione per comodità vado a nascondere come sempre l'icona del diverso per comodità e anche la griglia con G da tastiera la prima cosa che devo fare anche andiamo a inserire anche un gravity e lo spostiamo leggermente e un kill volume il kill volume lo facciamo grande quanto la scena in questo modo il calcolo sarà molto più veloce poiché andiamo a definire un'area un'area dove interverrà questa diciamo la nostra simulazione in questo modo la simulazione sarà contenuta in questo range e i calcoli saranno molto più veloci rispetto a non avere nessun kill volume o limitatore diciamo di aria dove invece poi i calcoli saranno considerati per esteso in parole povere il kill volume in questo caso ci aiuta ad avere una simulazione più veloce rispetto a non esserci ok e altro fattore andiamo a magari scondiamolo tanto non ci serve per ora altro fattore che vedremo sarà quello della viscosità poiché questa tipologia di emettitore come vi ho detto all'inizio è molto comodo per utilizzare delle texture in bianco e nero e quindi poter creare dei flussi che magari sono più simili per esempio a delle forme come le stesse gli stessi strumenti che si utilizzano per creare delle scritte di cioccolata o degli altri strumenti che solitamente si utilizzano nel settore dolciario di conseguenza andiamo a vedere come si comporta e quali sono le caratteristiche di questo emettitore a parte i parametri che già conosciamo di default abbiamo la tipologia di emettitore la maschera di emissione quindi qui possiamo cliccare e associare la maschera questa maschera qua che abbiamo già preparato quindi andiamo ad associare ok e logicamente noi adesso non la vediamo ok quindi possiamo possiamo associare anche una sequenza potremmo avere anche una sequenza di immagini che vanno a variare nel tempo però per ora noi associamo soltanto questa tipologia e qui abbiamo la possibilità di associare anche l'effetto di viscosità e altri parametri però per ora mettiamo puoi rendere una velocità pari a 3 in modo tale che sarà più veloce l'esecuzione di questo fluido andiamo a simulare simulate e vedo che abbiamo questa prima simulazione logicamente il flusso ha bisogno di una maggiore risoluzione magari ingrandiamo anche un po' per poter vedere meglio l'effetto della bitmap ok e risimuliamo ok vediamo di fatti che noi abbiamo in questo caso un'emissione data di fatti dalla forma della nostra shape però questo fluido non è molto viscoso quindi non è molto denso dobbiamo andarlo a renderlo molto più denso per lavorare con la densità con diverso possiamo tranquillamente da il domain andare a lavorare sul parametro viscosità che possiamo alzare anche di parecchio in questo caso portiamolo per esempio a 50 ok ok di default è 3 anzi 3 lo portiamo a 50 presettiamo e simuliamo vediamo che non è cambiato di tanto anzi è un pochino viscoso però non così tanto magari portiamolo anche a 100 lo simuliamo ok vediamo magari rallentiamo un po' la velocità in questo caso lo portiamo a 1 e altri particolari che possiamo fare innanzitutto vogliamo che il nostro emettitore abbia una sia molto più uniforme quindi in questo caso dobbiamo andare innanzitutto quando si lavora con la viscosità uno dei fattori che dobbiamo sistemare è il substep quindi la qualità del sotto frame e questo lo possiamo fare da option quindi dal simulate cliccare option si apriranno queste opzioni e sotto general possiamo andare il min substep ad alzarlo per esempio avruzziamolo a 50 volendo abbiamo anche il diverso il diverso come tipologia di min substep e maximum substep min possiamo provare a portarlo per ora lasciamoli così di default però volendo si potrebbero anche andare a modificare questi parametri volendo alzandoli o abbassandoli per esempio dando 1 oppure dando 3 vediamo che cosa succede se li alziamo a 4 e 4 resettiamo e simuliamo ok il min e il max substep ci aiuta anche a creare delle simulazioni che siano più stabili in alcuni casi non è questo il caso specifico la nostra simulazione potrebbe esplodere nel senso che potremmo vedere delle particelle andare un po' in giro per la nostra scena andiamo a lavorare ancora di più sulla viscosità di questo nostro emettitore volendo diamo anche un parametro molto alto diamo 10.000 anzi 1000 come 10.000 vediamo cosa succede con 10.000 la simulazione impiegherà molto più tempo però vediamo che l'emissione logicamente qui l'emissione non varia quindi dobbiamo dare 5.000 e lavoriamo anche sulla densità la densità volendo possiamo dare anche 5.000 a questa densità mentre come risoluzione diamo 20 per ora ok logicamente in questo caso specifico non sto lavorando sulla pressione interna ed esterna anche se la pressione interna ed esterna vanno un pochino a influire sull'andamento del nostro flusso poiché vanno a definire ad esempio la pressione interna se il nostro flusso tenderà ad uscire la pressione esterna se tenderà a rientrare in questo caso la pressione interna potrebbe esterna scusate potrebbe aiutarci a trattenere un pochino di più o comunque potremmo aggiungere un demon che abbiamo visto finora che abbiamo sempre utilizzato in un esimo a utilizzarlo anche in questo esempio che è quello del drag force il drag force permette di trattenere quindi permette di andare a trattenere un pochino le particelle e in questo caso evitare di avere dei buchi molto molto grandi vediamo che cosa succede se io resetto e vado a inserire per esempio quella esterna la portiamo a 2 quella esterna la portiamo a 0.5 e aggiungiamo un drag force un drag force con una qualità molto una forza molto alta per esempio 2 e simuliamo ora io non sto usando il command line per simulare perché voglio farvi vedere quello che sta succedendo però voi logicamente potete o utilizzare il command line oppure disabilitare con ctrl d la tastiera la viewport e quindi avere una simulazione leggermente più veloce una volta terminata la simulazione possiamo andare a vedere che cosa è successo vediamo che il nostro liquido scende che inizia a rilassarsi inizia ad essere abbastanza viscoso logicamente non ho fatto un'intera simulazione poiché è molto pesante molto lunga da andare a realizzare in così poco breve tempo e vediamo però come il fluido sia abbastanza viscoso in queste parti ok possiamo ancora alzare di più i parametri e possiamo ancora di più fare un effetto ancora più gradevole andando a ruotare questo nostro emettitore a 360 gradi però per ruotarlo a 360 gradi in maniera corretta perché in maniera dico in maniera corretta qual è il problema ogni tanto delle rotazioni io diciamo che voglio che ruoti da questo parametro quindi mettiamo una 0 di tutti ok inseriamo una chiave qui ci spostiamo su frame numero 20 e io voglio che sia 360 gradi qua ok e inseriamo un'altra chiave logicamente andiamo a aprire le curve edit curve prendiamo quella della della x la seleziono e vado a impostare un loop il problema qual è? che in questo caso avrò un saltello ok quindi avrò un effetto di saltello tutte le volte che avrò questo effetto ok quindi se vado a dare play ora è molto molto veloce magari non aumentiamo vediamo che quando arriva qui fa un leggero scatto e quindi tutte le volte avrò questo piccolo effetto come si fa a aggiustare questo effetto qui questo diciamo piccolo errore si può andare a dividere quindi apriamo la calcolatrice per il numero dei frame che abbiamo mettiamo caso che noi abbiamo 100 frame ok quindi 360 diviso 100 e ho 3,6 3,6 è il nostro scarto ok lo scarto che avremo in più o in meno questo vuol dire che la nostra rotazione per essere corretta deve essere di 360 quindi apriamo nuovamente le curve apriamo nuovamente le curve vuol dire che qui dovremo sommare questi 3,6 ok quindi 3 più 360 363,6 quindi andiamo qui 363,6 di punto di punto in questo modo il nostro loop è perfetto e verrà eseguito in maniera corretta tutte le volte ok non ci sarà nessuno scatto tra una parte e un'altra riccancelliamo riccancelliamo rimuvo il curve prima curva qui e verso il fondo diamo tranquillamente 363 che in questo caso possiamo dare anche 360 poiché non intendo fare un loop ok in questo modo la simulazione sarà ancora molto più gradevole poiché avremo proprio l'effetto che scende e i vari fidi che formano i cerchi esterni della nostra mappa creeranno delle forme molto più interessanti un altro aspetto che possiamo inserire è quello del kill speed poiché vogliamo anche dopo andare a rilassare il nostro flusso però vogliamo uccidere tutte le particles che hanno una velocità pari a 1 ok quindi min speed 0 e max speed 1 in questo modo avremo comunque un flusso molto più solido molto più rigido verifichiamo ancora dal domain alcune caratteristiche come la densità che potremmo portarla anche a 8 e anche in questo caso diamo 10 10 10 mila alla viscosità più è alta la viscosità logicamente più sarà denso il nostro flusso e poi vedremo e anzi facciamo una cosa portiamo il nostro flusso verso il basso creiamo un null object mettiamo in alto leggermente in alto perché lo voglio che sia sopra e imparentiamo il nostro emettitore al nostro null object quindi node parent null questo perché perché io voglio poter essere libero di muovere avere una rotazione logicamente sul mio emettitore senza che abbia influenzione esterne da parte di altri elementi come rotazione quindi poter regolare volta a volta ma voglio anche poter animare questo mio elemento muovendolo secondo un altro oggetto quindi secondo null object in modo tale che sia libero poi dopo volendo di effettuare altre modifiche oppure questo emettitore si muove e ne abbiamo uno accanto che si muove anch'esso in base a quest'altro oggetto quindi poter avere più oggetti che vengono avere più oggetti che si muovono proprio indipendentemente dagli elementi quindi a questo punto andiamo ad animare la position scusate position e lo spostiamo ok volendo verso la metà possiamo anche abbassarlo un pochino leggermente avremo questo effetto salviamo e andiamo a vedere che cosa succede io poi voglio lavorare un po' con l'interazione con il mio elemento quindi alt d e simulate yes andiamo a rimettere visibile alt d simulate ok allora in questo caso specifico le particelle siccome sto notando che è molto molto veloce le particelle sono uccise subito dal mio kill speed ok in questo caso andiamo a aumentare volendo a 5 la sua velocità max speed risettiamo salviamo e vediamo che cosa succede bene dobbiamo risolvere un piccolo problema di questa simulazione come in molte non abbiamo visto abbiamo uno spazio di interazione che è dato dal cell sites quindi per favore quindi selezioniamo il nostro plane cell sites 0.01 e visto che siamo sul nostro piano introduciamo anche un'interazione con la friction e la sticky la sticky praticamente la frizione sarebbe l'attrito che abbiamo lo sticky è praticamente l'effetto diciamo di attaccato come quello del potremmo dire il sharing ok quindi possiamo dare un valore tipo di 0.5 e anche sulla frizione l'alziamo un pochino 0.01 ok distanza possiamo mettere 0.01 e risettiamo e risimuliamo il tutto ecco qua come abbiamo risolto questo effetto e vediamo infatti che guarda ho posti pochi 30 frame però vediamo come si possa creare questo effetto qui voglio mostrarvi la scena una scena che ho utilizzato per andare a creare dei test proprio sulla viscosità dove abbiamo voglio vedere un attimo come quindi apriamola poiché andarla a simulare sarebbe molto molto lungo abbiamo questa scena realizzata in Maya con un panetto di burro se mi passate il termine o comunque un oggetto che potrebbe essere un biscotto qualsiasi elemento ok quale arriva e cade la nostra cioccolata con questa mesh ok che come vediamo sostanzialmente l'emettitore è lo stesso emettitore bitmap che abbiamo utilizzato con la stessa identica forma che è stata utilizzata nell'esempio ok con niente alt'altro che un drag molto elevato una gravity un kill volume per limitare l'aria e poi abbiamo qui di lato un surface tension a 50 per poter avere una interazione con il nostro elemento in maniera differente e anche in questo caso abbiamo leggermente variato un pochino alcuni parametri uno cheater con un valore a 3 così di default ma che vediamo adesso in alcuni punti era soltanto un test però in alcune parti lo cheater a 3 per esempio qui non basta poiché comunque si vanno a creare dei buchi e poi uno skill speed animato a 1 è un animato che quando arriva a un certo numero di frame 140 sostanzialmente inizia a scendere fino ad arrivare a 0,01 ok quindi animato e un altro drag animato anch'esso al frame 120 140 il quale anch'esso da 0 si porta a un valore molto più alto questo è lo stesso metodo che abbiamo utilizzato per andare a rilassare un fluido questo perché perché volevo far sì che una volta arrivato alla fine dell'emissione del mio emettitore il cioccolato iniziasse ad addensarsi e quindi a perdere forza e a solidificarsi ho realizzato alcune prove e infatti questa è una prima prova realizzata dove vediamo le particles che scendono e che vanno a riempire il tutto è molto molto liquido si spezza anche in alcune parti però per vedere bene l'effetto bisogna secondo me andare a realizzare la mesh e questa è la prima mesh realizzata dove infatti senza lo cheater si andava a spezzare e andava praticamente a creare una maggiore ok qui si spezzava e poi non si fermava anzi creava una lunga lingua ok di colatura mentre poi andando ad alzare notevolmente la viscosità e andando anche a uccidere prima e quindi a rilassare molto prima il fluido a un certo punto smetteva e poi colava verso il basso e quindi ho dovuto trovare una soluzione alternativa una soluzione intermedia la soluzione intermedia che è quella del file che vi sto mostrando dove sostanzialmente a un certo punto finisce l'emissione e poi inizia a rilassarsi il flusso e per realizzare questo effetto ho sostanzialmente utilizzato la stessa tecnica mostrata precedentemente ovvero un bitmap che va a emettere e si sposta nel tempo tramite controllato da un null object per quello che riguarda in questo caso anche la rotazione possiamo andare a nascondere momentaneamente la mesh che è molto pesante in in viewport quindi la nascondiamo eccolo qui andiamo invece a visualizzare alcuni elementi domain che in questo caso vabbè possiamo anche nascondere adesso spingiamo il domain e null object lo mostriamo abbiamo quindi questo null object qui ok questo null object che si muoverà si muove secondo una direzione e ogni tanto si inclina anche ok e invece il nostro emettitore che ruota su se stesso quindi ha un loop che ruotando va a definire come verrà emesso quindi il nostro pull poi abbiamo una gravity un kill speed un kill volume un drag come abbiamo visto precedentemente i quali vanno a emettere quindi poi possiamo visualizzare vediamo se abbiamo le particelle eccole qua e poi abbiamo siamo andati a ricreare la mesh la mesh in questo caso è stata ricreata utilizzando un polygon sides molto basso sia per il polygon sides sia per il filter all'interno del radius che è leggermente più alto non è lo stesso poiché se no veniva troppo piccola ma non veniva proprio l'effetto che volevamo abbiamo utilizzato un dilatate con un parametro relativamente basso quindi 0,25 e poi un forte step e abbiamo rilassato il tutto quindi non c'è nulla di molto complesso per poter realizzare degli effetti simili logicamente però con dei verso andare a realizzare gli effetti di viscosità sono molto più lunghi rispetto magari ad altre tecniche che si possono utilizzare sempre all'interno di real flow la viscosità in questo caso andiamo a vedere abbiamo una densità pari a 8000 e una viscosità pari a 12000 abbiamo anche 100 come risoluzione poiché abbiamo bisogno di tante particles e in alcuni casi in alcuni test ho portato pure a 200 questa risoluzione logicamente molto dipende anche dalla vostra scena che avete però in questo modo sono riuscito a ottenere un buon effetto un effetto comunque abbastanza gradevole anche a vedersi e di fatti abbiamo comunque una situazione molto molto buona abbiamo manteniamo sempre comunque una integrità quindi una visione abbastanza integra dell'emettitore di fatti possiamo notare forse nel secondo esempio si nota maggiormente o nel primo nel primo si nota molto di più che ci sono comunque dei lati oltre a esserci dei cerchi che vanno a creare l'emissione delle particelle abbiamo anche una sorta di stella e quindi vengono definiti questi lati queste punte molto di più rispetto ad altri ad altri emettitori che magari poteva essere un cerchio e basta in questo caso qui ok la mesh non è ottimale è sicuramente ottimale nell'ultimo esempio abbiamo bisogno comunque di andare a lavorare molto con la viscosità e con la densità del del nostro emettitore per realizzare questo effetto con dai verso nell'ultima simulazione sono passato dalle 66 ore su una macchina relativamente potente fino a 40 ore di simulazione solo di particles e poi un paio di ore per andare a realizzare la mesh dopo averla comunque già testata in altre situazioni sono simulazioni molto pesanti da andare a realizzare però comunque sono simulazioni che possono risultare anche molto belle a vedersi poiché comunque l'effetto che hanno finale è sicuramente molto piacevole grazie Grazie a tutti.